Il peggio deve ancora venire. Che dobbiamo fare? Verrò io a prenderti, mi hai sentito bene? Spaventessa. L'avevo intuito. Per fare l'avvocato a quei livelli ci vuole un certo velo sullo stomaco, papà. Lei ha bisogno di visibilità mediatica, qualcosa di impattante. E che glielo organizzano? Vedete che qualcuno possa fermarli? Nessuno può mettere a rischio i nostri piani. Controllano tutto quanto. Vi sbagliate. Come vuole che procediamo? Manda un messaggio. Fosse una metafora. Invece vive davvero vicino alla ferrovia. Tu sei una che ha le palle. Sei un'anarchica. Rimetti quel giornale a posto. Porca vaga. Adesso mi sembra esagerato però. In questi taglia miserabili, Berlusconi è arrivato al momento giusto. Ma quando si è mai visto un partito politico così pieno di doni? L'uomo forte è più forte da sole. Mai sentito dire? Il detto non è questo. È esattamente il contrario. Sto brevettato, diciamo. Sto brevettato. Allora, principio di Archimede. Galleggio chi ci crede. Va bene, adesso mi muovi le gambe come quando vai sulla mountain bike. Bravo. Solo solo adesso. No, c'è dell'alto comando nazista. Al momento opportuno requisiremo il collegio. L'Inghilterra può essere un posto molto ostile. Soprattutto quando nasci tedesco. Tuoi lavoratori sicuramente hanno alcuni appetiti. È perché gli elvi vivono molto più lunghi che i uomini. E Chris, mi piace il stesso? No, è un giro che mantiene il mio figlio. È una specie di via di mezzo. Signore e signori, queste sono storie di uomini e donne molto simili a voi. Che aspettano che vengano giorni migliori. Che aspettano che vengano giorni migliori.